Canzio, si parla giustamente molto del grande risultato del Movimento 5 Stelle, ma non dobbiamo dimenticare che anche la Lega, noi con Salvini Premier, ha ottenuto un grandissimo risultato, non soltanto in Italia, ma anche a Peramo e Provincia. Beh sì, forse è anche superiore ai 5 Stelle, perché come è crescita, mentre i 5 Stelle, insomma, nelle passate elezioni si era attestata al 25, adesso sta al 32. La Lega a livello nazionale dal 4 e qualche centesimo è passata quasi al 18 e a livello locale da 1,07 e siamo arrivati anche a livello regionale intorno al 14. Quindi grande soddisfazione naturalmente e soprattutto adesso anche voglia di fare sul territorio. Assolutamente, più che soddisfazione è grande responsabilità nel saper interpretare questo risultato e con la responsabilità che questo risultato impone iniziare a non deludere chi ha dato fiducia con il suo voto alla Lega. Con il parlamentare Bellachioma, a suo parere, il territorio strettamente terramano potrà usufruire di, diciamo così, attenzioni particolari? Assolutamente sì, perché anche quando io ho deciso di aderire, la mia richiesta era proprio quella, di avere un rappresentante. Tra l'altro stiamo parlando di un periodo in cui Bellachioma non era candidato e non si sapeva se fosse diventato deputato. Devo dire che lui ha dato questa disponibilità subito, l'ho sentito ieri sera e l'ha ribadita e sono convinto che, insomma, sicuramente lui sul territorio ci sarà molto e sarà presente, ma non solo niente fisicamente, ma anche con atti concreti. Adesso si pensa alle elezioni amministrative a Teramo o come pensate di muovervi? Da quello che abbiamo detto, adesso insomma queste elezioni sono finite, è urgente riunire tutte le forze del centrodestra, liste civiche, partiti che si riconoscono nel centrodestra e di mettere giù un programma. Noi abbiamo delle idee, sicuramente le avranno anche altri, creiamo il programma e intorno a questo programma che deve, come dire, avere come base solida la coesione di tutti e quindi senza personalismi. Dopo, ecco, secondo me è secondario, anche se è importante la scelta poi di chi dovrà essere grande dell'applicazione di questo programma, ossia il nome del sindaco. Però, a quanto sembra, la Lega non ha grandi velleità nell'avere un nome di candidato sindaco. No, noi abbiamo la velleità di avere un programma per la città. Questa è la cosa che a noi interessa di più, oltre che, insomma, il nome, ripeto, secondo me è secondario, ma è importante i programmi che si hanno per questa città di rilancio, perché questa è una città che ha grossi problemi e urgenza di risolvere questi problemi.